Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xuder e ragazzi la notizia è di pochissimi minuti fa sono arrivati i regali su fortnite guardate ragazzi sotto forma di pacchetto regalo guardate un po' noi lo possiamo raccogliere ci andiamo ad infrattare mica che ci sparano mentre cerchiamo di aprirlo i regali sono miei guardate ve lo faccio vedere meglio qua Guardate che roba è un oggetto leggendario ragazzi noi lo prendiamo lo tiriamo Porca porca guarda qua si apre un regalo gigante e lo possiamo spacchettare di prepotenza una volta aperto ragazzi al suo interno si troveranno degli oggetti Possono esserci armi leggendarie possono esserci oggetti consumabili come state vedendo in questo caso ad esempio abbiamo trovato una slurp uno shieldino un medikit e un rift e oltretutto distruggendolo ragazzi Otterremo anche del materiale come state vedendo stiamo ottenendo la legna Beh ragazzi che dire il natale è sempre più vicino anche epic games lo sente e ce lo fa sentire ogni giorno che passa Spero che anche voi troviate i vostri regali vi auguro buon game e noi ci vediamo stasera in live Ciao 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 Ciao